Come può la fatica esistere, non è come te. Come può traballare la tua esistenza, sai davvero quello che vuoi. Di cosa sei veramente certa nella tua vita, sei sicura di non essere in errore. Credi davvero che non dipende da nulla. Nelle domande che mi fai sentirmi evitare quella profonda sensualità. Che senti nel vivere la vita così come me? E non potresti cambiare nulla. Non senti quanto siamo complicati quando ne amiamo di più. Perché abbiamo paura di perderci, di fare qualcosa di sbagliato che possa allontanarci. Perché i nostri pensieri sono pieni di grodini. Perché i pensieri continuano veloci e non si fermano mai. E quelli più brutti non finiscono mai. Come può la fatica esistere, non è come te. Treva subito al nostro canale.